buongiorno e bentornati in questo nuovo video ora andiamo a parlare di questa leggera ondata di gelo proveniente dal nord est europeo e andiamo anche a valutare l'intensità che avrà come possiamo vedere questa mattina è entrata dell'aria molto fredda dal nord est europeo andando a colpire soprattutto il centro italia infatti vediamo in pianura padana temperature più alte questo gelo continuerà ad affluire nei prossimi giorni portando anche anche entro domani una meno 18 meno 20 sugli alpi di confine meno 4 meno 8 in tutta la nostra penisola gelo che man mano si andrà sempre di intensificare di più nei prossimi giorni come vediamo la giornata del 28 eccetera eccetera potremmo avere anche temperature fino meno 2 meno 3 in tutta la pianura padana nelle prossime mattine e gelate che colpirebbero anche roma e talvolta anche napoli nelle zone più interne come ad esempio roma nord e roma est non sono esclusi anche temperature fino a meno 3 meno 4 vediamo gelate diffuse soprattutto sull'adriatico visto che il freddo provenirà dai balcani appunto per fortissime nevicate anche in abruzzo infatti anche a livello di precipitazioni soprattutto sulle coste adriati che siamo messi abbastanza bene adesso esattamente per per l'una circa si dovrebbe trasformare la pioggia e neve in abruzzo visto che adesso visto che sta piovendo come ho detto le nevicate saranno abbondanti con accumuli che a teramo potrebbero raggiungere entro domani pomeriggio anche 30 35 se non 40 centimetri quindi una nevicata diciamo non storica però comunque abbastanza importante per l'abruzzo per ora è tutto